TELESPETTATORI DI SEILATV Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di oggi, mercoledì 19 luglio 2023. Andiamo a vedere insieme i titoli con le principali notizie del giorno. Cisano, motociclista di 40 anni grave dopo un incidente con un'automobile. Uniacque tiene alta la guardia, piogge più abbondanti, ma attenzione allo spreco. L'ex diurno riapre domani sera con una sfilata per un concorso di bellezza. Doppia polemica per un logo improprio di Bergamo e Brescia 2023. Viaggio nella città avvolta dal caldo tropicale, tutti a caccia di un po' di frescura. Atalanta nel ritiro di Clusone si corre e si suda, intanto Cisse si aggregerà alla futura. Under 23. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca andando a Cisano perché questa mattina attorno alle 12.30 il paese è stato teatro di un grave incidente avvenuto lungo la superstrada all'altezza dell'incrocio con via Colombiera di sotto. Protagonista è un'auto, una Fiat 500 guidata da una ragazza di 21 anni e una motocicletta con a bordo un quarantenne proprio residente a Cisano. A riportare le fetidità peggiori è stato proprio il motociclista trasportato ad urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Avrebbe riportato diversi traumi alle gambe ma era per fortuna cosciente all'arrivo dei soccorsi. Hanno avuto bisogno di cure anche la 21enne e la madre che viaggiavano insieme a bordo della Fiat 500, chiaramente sotto shock per il violento impatto avvenuto pochi istanti prima. La ragazza che era alla guida è stata ricoverata però certamente al Policlinico di San Pietro, Ponte San Pietro. Secondo le prime indiscrezioni sembra che la moto viaggiasse lungo la statale 639 in direzione Lecco, mentre la Fiat 500 usciva dalla via laterale, via Colombiera, e si metteva verso Cisano. Ancora sulle strade della nostra provincia ma andiamo in autostrada. Sulla A4 è stato un pomeriggio molto complicato per gli automobilisti che viaggiavano in direzione Brescia. Attorno alle 14.30 infatti un veicolo, esattamente un camper, ha preso fuoco per dinamiche ancora da chiarire, mandando il tilt, il traffico. La coda è arrivata fino a 6 km con rallentamenti anche in direzione opposta, ovvero quella di Milano, a causa della nube di fumo che si è elevata dall'incendio e che ha reso precaria la visibilità per gli automobilisti che sopraggiungevano appunto nella direzione opposta. A Bergamo invece teniamo aperta la pagina di Cronaca, mandando a Monterosso, perché la polizia locale continua a lavorare servendosi delle segnalazioni dei cittadini, dei comuni cittadini e andando anche a spulciare sul web per portare avanti le proprie indagini. Nel pomeriggio di ieri gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino preoccupato per via di una foto pubblicata sul social network Instagram da parte di alcuni giovani del quartiere di Monterosso dove era ritratta una pistola. I dati dell'account sono stati analizzati e hanno portato all'identità della persona coinvolta. Gli agenti hanno dunque visitato la residenza del proprietario durante l'incontro. Il giovane, che si è rivelato poi essere un minorenne, ha confermato la pubblicazione dell'immagine indicando però un altro ragazzo come il proprietario dell'arma. Gli agenti quindi si sono spostati nell'abitazione di quest'altra persona, anche gli minorenne, cercando di capire la provenienza dell'arma anche con la sua famiglia. È stata consegnata agli agenti la pistola ritratta nelle immagini pubblicate. L'arma si è rivelata essere una riproduzione in plastica e metallo di una pistola semiautomatica funzionante ad aria compressa e priva del tappo rosso che identifica armi che non possono ferire persone. La polizia locale sta decidendo se procedere con vie penali per il ragazzo che possedeva questa arma. Lasciamo la cronaca, quella quotidiana. Andiamo sulla giudiziaria perché per il processo UBI che ha visto assolti tutti gli imputati sono arrivate anche le motivazioni. Luca Cavadini. 214 pagine di motivazioni per una sentenza definitiva di assoluzione a tutti i protagonisti della vicenda UBI-Banca. In sostanza, la Corte d'Appello giudica l'interlocuzione tra le due componenti, bergamasche e bresciane, un normale scambio di visioni e di strategie comuni, ma non individua mai l'esistenza di un vero e proprio patto parasociale capace di dettare le linee dell'istituto bancario con decisioni esterne ed occulte. I giudici confermano che fra le due associazioni fondative della banca, Amici di UBI per Bergamo e Banca Lombarda e Piemontese per Brescia, ci fossero frequenti rapporti, ma il reato non c'è. Il fatto non sussiste. Nomi rilevanti nel panorama bancario nazionale e nella nomenclatura bergamasca. Giovanni Bazzoli, Victor Massià, Andrea Moltrasio, Armando Santos, Emilio Zanetti ed Italo Lucchini, il commercialista al quale è stato sequestrato molto del materiale che ha retto l'impalcatura delle indagini, ma dove, secondo la Corte, non c'è una parola del presunto patto nascosto. Dalle pagine delle motivazioni emerge anche un risvolto più politico della vicenda. Bazzoli non voleva una banca unica tra Bergamo e Brescia e alla fine la componente bresciana è stata in grado di imporre il diktat, anche, scrivono i giudici, per un'evocata debolezza e sostanziale subalternità della componente bergamasca. Restiamo a parlare di giudiziaria. La Procura di Brescia ha depositato al Tribunale dei Ministri la richiesta di archiviazione per Attilio Fontana, governatore di Regione Lombardia, e Giulio Gallera, ex Assessore al Welfare della nostra regione. Insieme ad altri 11 sono indagati per epidemia e omicidio colposi nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della prima ondata di Covid esplosa in Val Seriana. Per la Corte Bresciana il reatto di epidemia colposa si deve commettere, quindi compiere azioni che causino il danno. In questo caso si è contestata agli indagini solo l'omissione. Il Tribunale si dovrà pronunciare entro giovedì 27 luglio. L'attualità adesso con l'apertura dell'ex diurno in gestione a Balzer, che dovrebbe avvenire domani sera, un'inaugurazione prevista con un concorso di bellezza e relativa sfilata ovviamente dedicata alle donne ma è esplosa la polemica sia per appunto il format deciso ma anche e forse soprattutto per un logo di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023 utilizzato almeno secondo il Comune. Impropriamente. Sharon Bordogne. Nell'anno Domini 2023 a scaldare gli animi, prima ancora del caldo torrido, è Miss Capitale della Cultura, il concorso di bellezza in programma per domani sera al Balzer Globe o la sfilata delle donne soprammobili come l'ha definita il Comitato Bergamo Bene che ha puntato il dito contro il Comune di Bergamo per il patrocinio di un evento obsoleto e che propina stereotipi deleteri. Se non che, tra i corridoi di Palazzo Frizzoni, la catwalking non è mai stata contemplata. L'evento non è stato inserito nel palinsesto della Capitale della Cultura, non solo. Il logo della Capitale, stampato sui volantini promozionali, è stato usato dal Balzer nonostante il Comune avesse negato l'autorizzazione. Tra sotterfugi, belle ragazze e loghi rubati, la vicenda assume i contorni di un film di 007 che tra le sue mirabolanti stravaganze consegna alla vincitrice del concorso di bellezza il titolo di Miss Cultura. Una dicotomia che non disturba affatto i bergamaschi che non trovano nulla di male in una catwalking sotto la bandiera della cultura. Ma sì, io sarei anche favorevole, fa tutto parte della bellezza, dell'arte e della cultura. Perché no? La bellezza è in tutto quello che facciamo in ogni giorno, quindi benvenga. Tante ragazze ci tengono, va benissimo, sicuramente un'iniziativa carina. Penso che la bellezza sia bellezza comunque, quindi secondo me è una buona idea. Bellezza in generale, va bene, tutto. Ma anche la bellezza fa parte della cultura. Basta che sia una cosa un po' di contorno, secondo me bisogna dare un po' più rilievo alla cultura vera e propria. Non è una cosa che mi disturba, credo che se uno partecipa consapevolmente. L'estetica è caratteristica proprio della cultura italiana, estetica dei palazzi, estetica dei musei, e quindi alla fine della fine anche delle persone. Non ci vedo nulla di male. L'avrei fatto anche per gli uomini. Alla porta della cultura popolare del concorso di bellezza del Balzer, bussano timidamente poche pecore nere, alla ricerca della fantomatica connessione tra cultura e concorso di bellezza. Se la bellezza è quella culturale ci sta, altrimenti... Concorso di bellezza no, perché non ritengo che rientri nel concetto di cultura. La bellezza estetica non è scoprire che collegamento abbia con la cultura. E c'è un tema che fortunatamente negli ultimi tempi è finito un po' in secondo piano, quello della siccità, della mancanza di acqua, grazie alle piogge anche abbondanti che sono cadute nel mese di giugno soprattutto. Nel pomeriggio però Luca Cavadini ha interpellato Uniacque per cercare di capire quale sia effettivamente la situazione. Insomma, non possiamo dormire sonni tranquilli. La stagione estiva, primaverile estiva, dove sicuramente ha piovuto di più. In questo mese si può dire che ha piovuto per i sei mesi precedenti. Ma la situazione dell'acqua comunque va monitorata. Abbiamo il nostro titolo è Piove di più, ma attenzione allo spreco. Per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento l'amministratore delegato di Uniacque, il dottor Pierangelo Bertocchi, che ringraziamo per la sua presenza. Allora, il nostro titolo è giusto, attenzione, sia piovuto di più, i campi ne hanno giovato, sicuramente l'agricoltura, però attenzione comunque perché di acqua ce n'è comunque poca. Buonasera a tutti, grazie a voi per questa opportunità, grazie agli ascoltatori. È vero, condivido pienamente il titolo, nel senso che ha piovuto, direi più il mese di maggio che il mese di giugno e luglio, perché veramente maggio è stato il mese che in qualche modo ha dato la svolta, non i primi 15 giorni, dove quell'acqua che è venuto dopo un periodo lungo di siccità non ne abbiamo beneficiato molto, ma nella seconda parte del mese di maggio diciamo ci ha dato un buon contributo. Dico appunto buon contributo per dire che le sorgenti non abbiamo ancora recuperato i livelli del 2019-2020, per cui in una situazione di normalità, però non siamo nemmeno nel maggio del 2022, tantomeno nel marzo-aprile del 2023. Per cui i livelli dei bacini si sono sicuramente alzati, però non ne abbiamo in abbondanza e lasciatemi dire che non siamo completamente fuori dall'emergenza idrica. Per cui attenzione allo spreco è assolutamente una frase condivisibile, anzi è un appello che, come faccio da un po' di tempo a tutti, non sprechiamo l'acqua perché ce n'è, ma non ce n'è in abbondanza. Ecco, le chiedo, al di là che tutti noi, nelle nostre operazioni quotidiane e soprattutto l'industria, il commercio, deve fare attenzione, ma quali sono le zone più critiche della Bergamasca, dove bisogna stare ancora più attenti? Beh, le zone più critiche principalmente sono due. Abbiamo la Valimagna, che è notoriamente la più critica, a seguire c'è la Val Brembana e qualche frazione sparsa in giro per il territorio, molto meno in Val Seriana e in Val Cavallina, che sono due zone che abbiamo avuto già modo lo scorso anno di notare la differenza, per cui dove piove, anche se poco, ma piove di più. Per cui direi che questo è il quadro provinciale che possiamo rappresentare. Ecco, per quanto riguarda invece la situazione delle perdite d'acqua, vediamo una immagine, la facciamo vedere ai nostri telespettatori. Eccola qua, perdite della rete idrica in Italia per regione. Vedete quelle colorate in verde, tra le quali la Lombardia, sono virtuose, quindi si spreca meno acqua, fino ad arrivare al rosso vivo. Vi faccio un esempio, a Latina il 76% dell'acqua raccolta viene persa, a Como siamo intorno al 12%, quindi realtà completamente diverse. Dottor Bertocchi, come siamo messi a Bergamo? A Bergamo non siamo messi male, la cartina lo rappresenta molto bene. In città, il dato della città di Bergamo, siamo intorno al 18-20% sulle perdite, che è abbastanza in linea sul tema nazionale. Poi la cartina in questo momento, diciamo così, la prendiamo un po' come riferimento, ma non come dogma. Però voglio fare anche un esempio. Un conto è servire utenti in città Bergamo, nelle grandi città, nelle città abbastanza densamente abitate, un conto è portare acqua in cima alle nostre valli, indistintamente, perché il rapporto è utenti serviti chilometri di rete. Capite che servire 50 famiglie in quell'alta Val Brembana, alta Vanseriana, piuttosto che in città Bergamo, c'è un'estensione della rete talmente diversa che naturalmente ci stacca le percentuali di perdite e aumentano. Però devo dire che tutto sommato, sul dato medio provinciale, non siamo messi male. Ciononostante, dico anche che ci stiamo lavorando e c'è spazio di miglioramento. Stiamo mettendo a terra un progetto, che forse ho già avuto modo di parlare anche in questa trasmissione, sul tema delle perdite idriche, che sicuramente nei prossimi anni ci aiuterà, ma questo è il nostro compito, a migliorare questa situazione. Le faccio l'ultima domanda, una risposta telegrafica, meglio ancora con un voto. La qualità dell'acqua bergamasca da 1 a 10? Beh, lasciatemi dire 9. Non dico 10 perché è troppo, però 9 ci sta tutto. Abbiamo delle sorgenti importanti, ne ci c'ho una per cittarle tutte. La sorgente rossana, che è sicuramente una delle migliori sorgenti che abbiamo, del quale ne andiamo orgogliosi e la tuteliamo nel miglior modo possibile. Dottor Bertocchi, grazie della sua disponibilità, il 9 ce lo teniamo bene stretto e buon lavoro. Grazie a lei, buonasera a tutti. Proseguiamo sul filone di questo clima che sta inevitabilmente cambiando. Ci siamo ormai abituati ad estate molto più calde rispetto a quanto eravamo abituati negli anni scorsi. Oggi è stata forse la giornata più calda dell'estate. Silvia Valenti ha fatto un giro tra centro e città alta per capire come i bergamaschi e i turisti si sono difesi dalle alte temperature. È estate e fa caldo, praticamente una sioma. Non ci sarebbe quasi bisogno di dimostrarlo per ovvietà, ma le colonine di mercurio in questi giorni hanno decisamente toccato livelli record. 36 gradi a Bergamo e nella bassa, con zone risultate davvero roventi, una temperatura percepita di 39 gradi all'ombra a mezzogiorno e un'umidità del 70%. Al pronto soccorso del Papa Giovanni, nell'ultima settimana sono aumentati, anche se non con numeri di emergenza, gli accessi di anziani e soggetti fragili per sintomi legati al caldo, coliche renali, disidratazione, ipotensione, collassi. Questa mattina abbiamo provato a lasciare l'auto parcheggiata al sole e dire che è diventata un forno è un eufemismo. E così, tra i soliti consigli di idratarsi bene, proteggersi la testa con cappelli e non uscire nelle ore più calde, turisti e bergamaschi hanno i loro metodi per sopravvivere al clima tropicale, cercando riparo tra gli alberi e frescura all'ombra della corsarola. Sopportarlo e tenersi bagnati purtroppo perché se sia una sorgente d'acqua meglio bere perché altrimenti si schiatta di caldo. Per il cane tanta acqua e ombra, specialmente ombra. Qua con tutte le costruzioni vecchie alla fine le chiese andare a visitare, quindi lì dentro Sal Fresco. Mi ricordo bene almeno 3-4 ondate di caldo di questo tipo. Ricordo una per tutti il 2003 che durò una ventina di giorni e che ci riparammo qui in Città Alta dove facevo un po' di fresco nelle zone più ombrate. Perciò sì, sopravviviamo, ma non è niente di apocalittico. Si esce o alla sera o al mattino presto, ok, se si veste leggero, si beve tanta acqua o bevande fresche e si sta a casa il più possibile. Secondo gli esperti, l'ondata di caldo a cui stiamo assistendo è anomala, definita cupola di calore che sta investendo tutta la penisola e il Nord Africa. Una tregua sulla nostra provincia fortunatamente arriverà già nella notte di oggi e da domani potremo smettere di boccheggiare grazie ad un calo delle massime anche di 6-7 gradi previsto per venerdì. Intanto l'assessore regionale alla sanità Guido Bertolaso ha tenuto una conferenza stampa pochi minuti fa nel quale ha ribadito che la situazione è sotto controllo, che le temperature sono sì molto alte che mettono a rischio le persone più fragili ma che insomma gli accessi ai pronto soccorsi della regione e quindi anche di Bergamo sono tutto sommato sotto controllo, tendenza confermata anche dalla REU che ha dato insomma dati tutto sommato confortanti, consigli che abbiamo sentito anche nel servizio, ma ricoveri e casi eccezionali sono sotto controllo, soprattutto migliori rispetto all'anno scorso, anche considerando che la pandemia e quindi i contagi da Covid sono ovviamente crollati rispetto all'estate 2022. Caldo o non caldo, insomma i saldi stanno stentando, le previsioni erano nell'aria, ma dopo due settimane Ascom Confcommercio con un sondaggio ha evidenziato che il calo delle vendite rispetto all'anno scorso è crollato del 10%, con punte anche almeno 30%. Ascom stima che a rinunciare agli acquisti in saldo sarà il 5% in più delle famiglie rispetto al 2022. In questi ultimi anni, ha commentato Diego Pedrali, presidente del gruppo abbigliamento dei Ascom Confcommercio Bergamo, i negozi si sono trovati a dover ordinare più di quanto necessario. Stiamo facendo ora gli ordini per la primavera estate 2024 senza avere previsioni, ma solo imposizioni. Non si può continuare a lavorare con budget e quantitativi minimi imposti dei brand e dall'industria della moda. La richiesta dell'associazione rivolta alle istituzioni è quella di richiedere un tavolo della moda per difendere le made in Italy, l'IVA agevolata e un bonus moda per l'acquisto di prodotti eco-sostenibili, ma soprattutto di ridurre gli affitti a cui i commercianti devono sottostare per tenere aperte le loro attività. Attività decisamente diversa, usciamo dai negozi, dai centri commerciali, andiamo a respirare aria buona, aria buona che viene generata anche da imprese, in questo caso cooperative, che lavorano per il bene del territorio, dell'atmosfera, ma anche del capitale umano. Parlare oggi di sostenibilità è molto di moda, un termine abusato che perde il suo vero valore nella maggior parte dei casi. Esistono però realtà che nobilitano il cuore del termine, costruendo la propria attività davvero attorno ad esso. È il caso della cooperativa OICOS che abbraccia la sostenibilità sia da un punto di vista del rispetto del territorio che da quello di un'inclusione di persone fragili, perché la cooperativa da 25 anni opera nel mondo agricolo e del giardinaggio, di quello della pulizia e sanificazione e in quello del trasporto sociale. Il tutto all'insegna del massimo rispetto dell'ambiente e del capitale umano. Noi 25 anni non abbiamo mai perso, non abbiamo mai licenziato nessuno, che è davvero un argomento molto positivo. Questo è il punto di welfare fondamentale, cioè il fatto che persone che messe in altre situazioni, ad esempio in azienda, personale fragile, a volte si trova in difficoltà, da noi invece lavora in posizioni studiate opposte e seguiti ovviamente da persone esperte che sanno come farlo. Il dibattito sul tema del verde è aperto. Il Presidente si focalizza sull'importanza di qualcosa che resista nel tempo e che davvero porti beneficio al mondo in cui viviamo. È qui che si aprono oltretutto maggiori possibilità di trovare posti di lavoro. L'agricoltura tradizionale è molto meccanizzata, quella che guarda domani molto meno e in corsi che si terranno con archetti posti in concomitanza con i maestri del paesaggio il tema verrà evidenziato. L'agricoltura a cavallo del giardinaggio che è quello che serve oggi per rendere il nuovo verde le città richiede un sacco di lavoro manuale un sacco di competenze un sacco di capacità ed è un lavoro bellissimo. Tra le attività di Oikos c'è la produzione di vini totalmente biologici 8 le etichette prodotte in 6 zone della provincia. Noi siamo stati ad Astino dove si produce il 6 un incrocio 100% Manzoni e lo 0 100% Cerdonet. Lavorare in ambito qualitativo è molto più soddisfatto soddisfacente. Gran parte delle operazioni culturali vengono eseguite a mano quindi per quanto riguarda la selezione dei germogli la selezione dei grappoli la sfogliatura Stimolante l'idea di lavorare con persone con fragilità Lavorare insieme a loro ci dà un ulteriore apprendimento per quanto riguarda tutto l'ambito umano. Ecco Ci fermiamo piccolo break pubblicitario e poi torniamo con Atalanta e Albino Leffe seconda parte del nostro notiziario che apriamo andando a Clusone dove l'Atalanta è in ritiro estivo lavori duri carichi pesanti per mettere benzina utile ad una lunga stagione intanto il calciomercato prosegue Fa caldo anche a Clusone nel ritiro Atalantino ma la preparazione continua si corre tanto e lo fa anche Mister Gasperini almeno fino a quando le gambe reggono allenamento anche in campo con alleggerimento e partitelle a gruppi a disposizione anche il rientrante Muriel mentre Mustafat Cissé lascerà oggi la Valseriana per aggregarsi all'Under 23 l'Atalanta avrebbe intenzione di trattenerlo per farlo giocare in Serie C ed aggregarlo all'occorrenza in prima squadra lo scorso anno ha disputato sette partite con il Pisa e undici con il Sul Tirol segnando due reti nessuna novità dal calciomercato la dirigenza nera-azzurra non cambia idea Oilund al Manchester solo per un'offerta irrinunciabile e solo per contanti non sarà accettata una contropartita tecnica di fatto non risultano essere arrivate proposte concrete dall'oltremanica sempre calda la pista Ian lui privilegia Bergamo ma bisogna trovare l'accordo con il Verona certezza assoluta invece sull'entusiasmo del popolo bergamasco magliette a ruba e la voglia matta che ricominci il campionato Andiamo a parlare di Albino Leffe anche in questo caso il ritiro è iniziato a inizio settimana e il neodirettore sportivo Obedio ha messo a segno il quarto colpo di mercato si tratta di Cristian Carletti attaccante classe 96 proveniente dal Trento nativo di Cremona cresciuto nel settore giovanile della Cremonese tra i professionisti ha vestito le maglie di Carpi anche in Serie B Prato Gozzano ancora Carpi Arezzo Latina e Trento in carriera tra campionato cadetto Lega Pro ha totalizzato 147 presenze e 27 gol di lui lo stesso Obedio ha detto è il classico attaccante d'area di rigore abile di testa generoso e dalla grande forza fisica Albino Leffe che ovviamente conta di trovare il suo bomber dopo l'addio di Manconi Lasciamo le notizie andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore augurandoci che il caldo ci dia una tregua Ben ritrovati da Emma Parigi di Trebineteo anticiclone nordafricano ben saldo e robusto sul Mediterraneo e sull'Italia garanzia di stabilità ed estesi rasterenamenti sul territorio ma correnti umide oltralpe come osserviamo daranno luogo alla formazione di rovesci e temporali localmente intensi principalmente sul comparto alpino uno sguardo alla Lombardia giornata di giovedì ampiamente soleggiata qualche effetto limitatamente possibile ai settori montuosi clima ancora molto caldo con punte massime di 35-36 gradi valori come sempre registrati all'ombra uno sguardo a cosa ci attenderà su Bergamo giornata di giovedì con cieli sereni o poco nuvolosi qualche disturbo nella seconda parte del giorno limitatamente ad Alpi e Prealpi temperature massime attorno ai 34-35 gradi la giornata di venerdì sarà un po' più variabile correnti umide oltralpe come vi anticipavo potranno favorire la formazione di rovesci e temporali talora intensi principalmente nelle ore pomeridiane fenomeni localmente accompagnati da grandinate e raffiche di vento improvvise si attenua la canicola le temperature massime come osserviamo perderanno qualche grado residui fenomeni nella giornata di sabato poi da domenica tornerà a splendere il sole e ridimensionamento termico valori un po' più tipici accettabili dettagli maggiori sull'app di Trebimite oppure consultando il nostro sito web non ci sono notizie dell'ultimo minuto io mi fermo qui vi ringrazio per l'attenzione vi rimando a domani alle 19.15 con il nostro notiziale vi ringrazio vi ringrazio Grazie a tutti.